Musica Braiter arrestati in India, c'è a prensione per i due giovani di Monte San Vito e Grotta Mare sorpresi a disegnare graffiti nella metropolitana di Ahmedabad Controlli sulla filiera della pesca, nelle marche sanzioni per 12.000 euro Fano scatta un sequestro per cattivo stato di conservazione Auto a forte velocità in via della colonna Fano, le lamentele dei residenti che chiedono al comune interventi urgenti per la tutela della salute e dell'incolumità delle persone Noi diciamo ci deve scappare veramente il morto prima di fare qualcosa Cioè il comune dovrebbe essere al servizio dei residenti Non noi che dobbiamo lottare per avere qualcosa come la messa in sicurezza di una via Caos in maggioranza Fano, il capogruppo della Lega Attacca È evidente una profonda spaccatura con ricatti e sgambetti Ha detto che danno luogo a un teatrino di cui Fano non ha bisogno Lavori in piazza del Popola Pesaro Gli scheletri sono stati rimossi e si chiudono gli scavi L'assessore Pozzi assicura verrà ricostruita la decorazione a ragnatela Dal 7 al 9 ottobre tornano le giornate del premio letteraria In gara 120 libri che verranno valutati da 1700 studenti Buonasera e bentornati sul canale 19 per una nuova edizione di Occhio alla Notizia Ci sono anche due marchigiani tra i quattro giovani arrestati in India Per aver imbrattato treni della metropolitana a poche ore dall'inaugurazione di una nuova linea Sono stati fermati nello stato di Ahmedabad Il 29enne Baldo Sascha di Monte San Vito Il 27enne Paolo Capecci di Grotta Mare E gli abruzzesi Gianluca Cudini e Daniele Stranieri Rispettivamente di 24 e 21 anni Sono accusati di danneggiamento di proprietà pubblica e ingresso in area vietata Gli agenti li hanno identificati dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza Poi nell'appartamento affittato dal gruppo I poliziotti hanno rinvenuto numerose bombolette spray di diversi colori I media indiani hanno pubblicato la foto dei quattro italiani all'interno della stazione di polizia Agli inquirenti i writer hanno dichiarato di aver disegnato i murales per gioco E che la scritta TAS significherebbe tagliatelle alla salsa Anche a Mumbai, secondo quanto documentato dalle videocamere di sicurezza della metropolitana Avevano tentato di compiere gessi analoghi Ancora cronaca con il prodotto ittico sequestrato in un'attività commerciale di Fano A causa del cattivo stato di conservazione potenzialmente nocivole al pesce per la salute umana L'operazione è stata condotta dal comando regionale della Guardia Costiera Che nei giorni scorsi ha eseguito una serie di controlli a terra e in mare Finalizzati alla tutela del consumatore finale e alla verifica del rispetto delle disposizioni In materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici in commercio Nelle Marche sono state effettuate 41 attività ispettive su pescherecci, pescherie, ristoranti Venditori ambulanti e piattaforme logistiche Le verifiche hanno portato a 4 sequestri Per un totale di oltre 51 kg di pesce e 7 sanzioni amministrative Per un valore di circa 12.500 euro Rimaniamo a Fano per dare spazio alle segnalazioni dei nostri telespettatori Partiamo dalla richiesta dei residenti di Via della Colonna Che hanno inviato al comune una petizione con oltre 120 firme Per mettere in sicurezza questa strada ritenuta molto pericolosa Vediamo perché Sorpassi azzardati Auto a forte velocità Furgoni che transitano sulla corsia opposta I residenti di Via della Colonna sono stanchi e preoccupati per la loro incolumità Questa strada molto trafficata viene considerata non sicura Nonostante sia residenziale, sede di un asilo nido e accesso principale al parco urbano In questi anni sono state diverse le richieste avanzate al comune per la messa in sicurezza Anche attraverso un progetto di modulazione del traffico Ma pare che ad oggi non sia stato avviato alcun tipo di progetto Justin, che cosa lamentate e quali sono le vostre richieste? Io sono solo il portavoce dei residenti della Via Perché questa è una battaglia iniziata con Liliana più di dieci anni fa Qui abbiamo un problema di traffico E quindi un problema di inquinamento acustico E di inquinamento atmosferico Che purtroppo il comune continua a ignorare Questa via inizialmente era una via chiusa Quando l'aeroporto era di proprietà del Demanio Poi il comune lo ha aperto Senza consultare i residenti Da quel momento il traffico è solo aumentato Perché Via della Colonna è diventata una scorciatoia Per arrivare su Via Papiria e agli altri quartieri di Fano Quindi invece di fare via Mattei e passare dietro l'aeroporto Adesso abbiamo macchine, pullman, mezzi pesanti Che non dovrebbero passare qui ma ci passano perché è comodo Inoltre ha proseguito il portavoce Quando il comune aveva eseguito i lavori di asfaltatura Aveva tolto i dissuasori di velocità senza installarne altri E nessuno oggi rispetta il limite imposto di 30 km orari Il risultato qual è? Che noi dobbiamo stare sempre con le finestre chiuse Sul lato strada e anche sui lati della casa Perché comunque l'inquinamento arriva, entra in casa, si sente La via poi si stringe, diventa sempre più stretta Man mano che si va verso l'aeroporto Quindi ci sono dei residenti nelle case a schiera Che hanno la porta letteralmente a suicidio della strada Quando passano mezzi pesanti Il camion della Sol con il gas infiammabile Oppure il betoniere Da loro si muovono porte all'interno della casa Vibra tutto È pericoloso, non è solo questione di inquinamento Ma anche pericoloso Perché quando noi usciamo con le macchine dai cancelli Non c'è visibilità Per loro la stessa cosa Qui è successo un incidente già la settimana scorsa E allora noi diciamo Ci deve scappare veramente il morto Prima di fare qualcosa È il comune che dovrebbe essere a servizio dei residenti Evidenziato già a Sine E non i cittadini che devono lottare Per la messa in sicurezza di una strada Oltretutto, aggiunto Si vorrebbe aprire un bar vicino all'aeroporto Ed espandere il parco urbano Progetti che in modo inevitabile Porteranno più bambini, famiglie e traffico Con quale assessore vi siete confrontati? Noi ci siamo confrontati con l'ex assessore Tonelli Ovviamente lei non c'è più E quindi la battaglia si prolungherà Perché abbiamo chiesto di mettere un dissuasore mobile In fondo alla via Con telecomando Perché così possono passare i mezzi di soccorso Ma tutto l'altro traffico viene bloccato Questo però non lo vogliono fare E quindi abbiamo fatto un'altra proposta Con tanti piccoli interventi Di modulazione del traffico In base ai quaderni FIAB Quindi sono documenti ufficiali Però i lavori sarebbero notevoli Sarebbero numerosi Qui da fare sulla via Purtroppo ancora non se ne fa niente E quindi noi le battaglie le portiamo avanti E invece un residente di via Sant'Andrea in Villi Se ci ha inviato un video per mostrare Le condizioni in cui versa la strada Piena di buche, dislivelli e solchi pericolosi Quando sono venuti a sistemare La traccia che hanno fatto per l'acquedotto nuovo Sono arrivati il giorno dopo Subito e immediatamente Si sono fermati qua Come potete vedere La strada continua Qui è sempre la traccia dell'acquedotto Ed è la strada Tutta rovinata Tutta rovinata Forse è anche il pezzo più brutto rispetto a quello che c'era prima Basta che piove un po' Si formano dei solchi enormi Questi qua sono i solchi E questa strada Ma dobbiamo sempre percorrerla Con attenzione Sia con la macchina Che con la moto Soprattutto con la moto e lo scooter Ci sono dei solchi enormi Si rischia ogni volta di cadere Come potete vedere Guardate che solchi che ci sono Questa è la strada Anche qui Solchi Hanno messo un pochettino Di asfalto qua Che non ha risolto niente Perché come potete vedere Gli avvallamenti E le buche continuano E continuando per questa strada Sempre molto rovinata E molto pericolosa Arriviamo Alle due abitazioni Che rischiano ogni volta che escono di casa Di rovinare la macchina Non farsi male Torniamo a parlare Della divisione della maggioranza In consiglio comunale a Fano Perché dopo il messaggio Del sindaco Massimo Seri Ai consiglieri usciti dall'aula E la replica Del capogruppo Del PD Agnese Giacomoni A dire la sua oggi È Gianluca Ilari Della Lega Che sottolinea La spaccatura E gli sgambetti politici Assistiamo Ha detto Ilari A dei tre teatrini Di cui Fano non ha bisogno Ilari come valuta questo caos in maggioranza? Quello che è accaduto giovedì scorso In consiglio comunale È l'ennesima prova Di quanto questa maggioranza Sia scollata E di quanto ognuno di loro Vada per la propria strada Fanno sorridere Le lacrime di coccodrillo Del sindaco Seri Che per correre In aiuto Dell'assessore Brunori Ci lancia delle scuse A tutta la città Dicendo che il buon padre di famiglia Deve richiamare I propri consiglieri Perché fanno ridere? Perché la colpa Effettivamente è la sua C'è una maggioranza Nella quale Non si capisce più Quali siano le priorità Il sindaco Seri Non prende posizioni Su tutti i temi più importanti Ed è normale Che nella mancata condivisione Ognuno cerchi di tirare acqua Al proprio mulino Io sfido chiunque A sapere Che cosa voglia fare Questa maggioranza Sul piano regolatore Sulla variante di Gimarra E su tutti gli altri temi Che caratterizzeranno la città Quindi è evidente Che ci sia Una profonda spaccatura Chiaramente Sono tutti ricatti E giochini E sgambetti Che si fanno Per portare acqua Ai propri temi L'ultimo Quello Del mancato numero Per ottenere L'immediata eseguibilità Sulla variazione di bilancio Era evidente Il fatto che Una parte della maggioranza Volesse quei soldi Non impegnati Proprio per Eventualmente Spenderli nella variante Di Gimarra Ma questo vale Per tantissimi temi E io credo che Fano Non abbia più Il tempo Da spendere Per rimanere Così al palo A questo punto Quali sono le vostre Proposte o richieste? Ma le nostre richieste Da buon padre Di famiglia Sarebbero quelle Di trarre Delle conclusioni Sulla durata Di questo Esecutivo È chiaro Che in maggioranza Ci sono tante Personalità Che potrebbero Veramente Fare il bene Della città E staccare la spina A questa amministrazione Proprio per Amore Della nostra città Non da ultimo Abbiamo la possibilità Di salvare Aset Invece con questo Attendismo Del sindaco Sieri Si sta portando Aset Verso Un'incorporazione Da parte di un privato Abbiamo la possibilità Di realizzare Veramente tante opere Nell'ultimo consiglio Comunale Si è parlato Di variazioni Di bilancio Che avevano Il loro Impiego Nei lavori pubblici E l'assessore Ai lavori pubblici Ancora non è stato nominato Quindi Vedete che è veramente Complicato andare avanti In un'amministrazione Del genere E in consiglio comunale Si assistono A dei teatrini Di cui Fano Veramente non ha bisogno E' stata fissata Per il 5 dicembre La riapertura Della pediatria E dell'ostetricia All'ospedale San Salvatore Di Pesaro Riapertura Che era stata fissata Inizialmente Per il 30 settembre Scorso Il dipartimento Materno infantile Era stato chiuso All'inizio Della crisi pandemica E l'attività In questo periodo Si è svolta Soltanto Al Santa Croce Di Fano Il vero problema È quello del personale Ha spiegato L'assessore Alla Sanità Filippo Saltamartini L'azienda Già dal mese di marzo Ha attivato Tutte le procedure possibili Per reclutare medici Tenendo conto Dei pensionamenti In particolare Ha aderito Per sette posti Al concorso Unificato regionale Indetto da Asur Che attualmente Non è ancora concluso Ha indetto Una procedura Di mobilità Al momento Infruttosa Ha emesso Due avvisi Per incarichi A tempo determinato E uno Di conferimento Di incarichi Libero Professionali Riuscendo ad acquisire Un solo medico In formazione specialistica E un incarico Professionale Per la copertura Di alcuni turni Il trasferimento Del dipartimento Resta vincolato Anche alla ristrutturazione Delle strutture Nel reparto Di ostetricia Mancano i lavori Di finitura Che si concluderanno Intorno al 15 novembre Con i collaudi Per quello che riguarda Il personale medico Assicurato l'assessore Siamo pronti Ad assumere prestazioni Anche attraverso gara Con cooperative esterne Per garantire Il servizio Dall'ospedale Alla piazza Di Pesaro Dove Dopo la scoperta Di scheletri E teschi Il cantiere va avanti Con la posa Dei sanpietrini Gli scavi archeologici Verranno chiusi Ma i resti ossei Saranno analizzati E poi esposti Nei musei Della città Erano di qualche giorno fa Le immagini girate In piazza Del popolo a Pesaro Dove l'archeologa Erika Valli Spiegava curiosi Studiosi dettagli Sui reperti rinvenuti Durante i lavori Di rifacimento Della pavimentazione Ora però c'è fretta Di terminare L'intervento complessivo E il cantiere Prosegue con la posa Di sanpietrini Gli scavi Verranno coperti tutti E non verranno realizzate Delle finestre Per continuare a vedere Tratti di mura Del medioevo Questo lavoro Questo lavoro di rifacimento Della piazza Della pavimentazione Della piazza È stata anche un'occasione Per scoprire Delle cose nuove Che attengono La storia della città Si sono condivise Tutte le fasi Con la sovrintendenza Come dicevo Che prevedevano appunto Che nelle giornate Di domani Di mercoledì Insomma Si potrà procedere A ricoprire Quindi Una volta concluse La fase di diagnosi Di studio E di raccolta dati Che è avvenuta Nell'ultime due settimane Si potrà procedere Quindi alla chiusura Per riportare Nella piazza Nella sua fruibilità Ma con rispetto Della storia E con una conoscenza Maggiore Di quelle che sono Le informazioni E gli elementi emersi I teschi e gli scheletri Ha proseguito Pozzi Sono stati gli elementi Che hanno incuriosito di più E che ci hanno dato La possibilità Durante gli scavi Di scoprire un vero cimitero I resti ossei Sono stati rimossi E ora sono oggetto Di ulteriori indagini Poi verranno esposti Nei musei di Pesaro Invece Per quanto riguarda Il disegno originario Della seicentesca ragnatela L'assessore Ha assicurato Che verrà mantenuto Ovviamente Durante le fasi Di lavorazione È facile Che il materiale Che si poteva riutilizzare Venisse riutilizzato Mentre quello Che non è possibile Riutilizzare Basta guardarci Qua intorno Alcuni di questi cordoli Sono completamente rotti Completamente sporchi Quelli ovviamente Dovranno essere sostituiti Sulla base Di questo check E quindi Di questa separazione Del materiale riutilizzabile Da quello non riutilizzabile Abbiamo deciso Di salvare Diciamo così Di utilizzare Le pietre Che sono state recuperate Proprio intorno alla fontana Quindi intorno alla fontana Quel disegno Che c'era Intorno alla fontana Verrà ripristinato Con le pietre vecchie Quindi con le pietre Che hanno La storia Della piazza Mentre gli altri Cordoli E altre bordature Sono con un materiale Che è stato Con un giallo d'istria Così come appunto È stato condiviso Con la sovrintendenza Proprio per Insomma Mantenere quella Quella storia Della città L'idea è quella Di fare una piazza Che sia rispettosa Della storia Della città Ma che possa anche Guardare un po' Con una speranza Verso il futuro E un restyling Che quindi Gli dia dignità A Fossombroni Invece è iniziata La manutenzione Straordinaria Di Corso Garibaldi Con la sistemazione Delle parti più ammalorate E pericolose Per la pubblica Incolumità L'intenzione Della giunta comunale È quella di provvedere A una manutenzione Costante Di questo tratto E con periodicità Almeno biennale Per garantire Decoro e sicurezza L'ultimo intervento Era stato eseguito Nel 2010 Oggi Ha poi fatto sapere Il vice sindaco Michele Chiarabilli Abbiamo ripulito E ridato dignità A Via Beato Riccardo Una delle vie Del centro storico Completamente Abbandonata da anni Sarà una giuria Composta da 1700 studenti A decretare I vincitori Del premio letterario Alla manifestazione Che torna a Fano Dal 7 al 9 di ottobre Con autori Traduttori E artisti Una giuria Di 1700 alunni Delle scuole superiori Facenti parte Di 12 poli 120 titoli in concorso Provenienti da decine Di case editrici E 10 finalisti Sono solo alcuni Dei numeri Della non edizione Delle giornate Del premio letteraria Che torna a Fano Da venerdì a domenica Con un programma Ricco di appuntamenti Sì anche quest'anno Abbiamo ben due sedi La Mediateca Montanari Nella fattispecie Sia in sala ipogea Che in aula didattica Con incontri E la Pinacoteca San Domenico Quindi due incontri Due incontri Quattro ogni pomeriggio E ospiti straordinari Con un programma Molto variegato Che va dalla Dalla lezione magistralis Per esempio Quella che farà Andrei Longo Nel pomeriggio Di venerdì Dedicata a come non si scrive Partendo dal linguaggio Cinematografico A quella di Elvira Serra Che farà una lezione Su appunto Grazia dell'Edda Alla lezione magistralis Di Claudia Zonghetti Sulla sua traduzione nuova Uscita l'anno scorso A dire la verità Dei fratelli Karamazov Di Dostoievski Quindi di contenuti Veramente molto alti Fino a cose Anche invece più particolari Come i reading Quello di Alessio Arena Che noi abbiamo battezzato Quella letteraria Canta scrittore Per cui racconterà Sei i suoi libri Ma attraverso le sue canzoni Perché lui è un cantautore E quindi si accompagnerà Con la chitarra Sempre in Mediateca Montanari O il reading Della domenica pomeriggio Di Nicola Manupelli Che racconta Un'America Meno conosciuta Che è l'America Della provincia Attraverso scrittori Grandissimi Come appunto Larry Watson Con il quale è arrivato In finale O appunto Guthrie O Fitzgerald La serata di premiazione Poi si svolgerà Sabato 8 ottobre Alle 21.30 Nella Sala Verdi Del Teatro della Fortuna I riconoscimenti Che verranno consegnati Saranno due Del valor di 2000 euro Ciascuno All'autore Del romanzo italiano Più apprezzato Dalla giuria E poi un premio Dedicato alla narrativa Straniera in traduzione Noi abbiamo deciso Di premiare il traduttore Non perché i ragazzi Leggendo Siano in grado Di comprendere La qualità Della traduzione Ma perché Comunque Se apprezzano un libro Lo apprezzano Nella veste italiana Quindi perché Non riconoscere al traduttore Che se è riuscito A far amare un libro Merito è anche suo Ci sarà un'altra serata Importante Oltre a quella Dedicata alle premiazioni Sì La serata di venerdì 7 Che per noi È la serata inaugurale A tutti gli effetti E ogni anno Cerchiamo di portare Il teatro civile C'è una forma di teatro Ma che parta dalla narrazione In cui la parola è centrale E anche quest'anno Avremo gli straordinari attori Dell'Aquila Signorina Con uno spettacolo Su Rosalind Franklin Questa straordinaria scienziata Laureata sia Cambridge Che per prima Ha scoperto il funzionamento Dell'elica del DNA Poi collaborando Insomma Con i suoi colleghi Si è vista Non dico scippare Ma comunque Non riconosciuta Nel merito Insomma Di aver aperto questi studi E come sempre Un'interrogazione Non solo sulla scienza Ma anche sulla morale Sull'etica Sul ruolo delle donne Sulla fatica delle donne Ad essere accolte Nel mondo accademico Almeno all'epoca Con questa notizia Chiudiamo qua Il nostro telegiornale Inviateci anche voi Segnalazioni Foto e video Su Whatsapp Al 338 49 68 250 Da parte di tutto lo staff Di Fano TV L'auguri di una buona serata Questa è una buona serata Questa è una buona serata Questa è una buona serata